domenica mattina e oggi ho deciso una volta tanto di prendermi una pausa dal turbinio di risultati commenti riscontri che ci porta il calcio che si sta giocando in tutto il mondo in questo weekend mi prendo una pausa perché voglio raccontarvi una storia voglio riprendere il filone dei quella volta che e mi è venuto in mente di raccontarvi questa storia quando ho visto e l'avete vista sicuramente anche voi la foto di maradona seduto su un trono a bordo campo mentre dirige la partita del suo gimnasia la plata solo a lui potevano mettere un trono al posto del seggiolino in panchina perché maradona in argentina ma non solo è il re è il re del calcio però vedendo quella foto ho capito perché gliel'hanno messo mi sono ricordato di un episodio della mia vita della mia carriera giornalistica della mia esperienza in cui più o meno ho avuto la stessa sensazione la stessa risposta nel trovarmi davanti diego armando maradona il trono gli erano messo non i tifosi del suo gimnasia la plata ma gli erano messo gli avversari gli era messa la gente gli era messo la gente di rosario la gente del nulz sicuramente non per quello che sta facendo da allenatore perché insomma i risultati con il lobo platense non sono granché ma gliel'hanno messo perché non c'è possibilità di fare altro quando accogli a casa tua diego armando maradona la gente di rosario è gente che sa molto di calcio è una città estremamente futbolera la città natale di messi e tantissimi altri talenti dell'attualità e della storia del calcio argentino ma rosario è anche una città che sa di uomini storici c'è nato cegevara c'è nato anche fontana uno dei più grandi esponenti dell'arte contemporanea rosario la città dove è conservata la bandiera della nazione argentina è una città mistica è una città che sa tante cose e le esprime a modo in modo unico a modo proprio rosario ha deciso di mettere un trono a diego armando maradona e allora io mi sono ricordato e vi voglio raccontare quella volta che ho incontrato diego armando maradona è successo nel novembre del 2008 io avevo 26 anni lavoravo allora per sport italia facevo le telecronache primariamente appunto del calcio sudamericano in generale e argentino in particolare mi occupavo di seguire le vicende della selezione e nell'ottobre del 2008 dopo che avevo commentato la sconfitta storica dell'argentina in terra cilena contro il cile del loco bielsa con il gol storico appunto di fabian oreggiana il coco basile dalle dimissioni nel momento in cui basile dalle dimissioni ci sono fondamentalmente quattro candidati per la panchina dell'argentina uno di questi è diego armando maradona ho capito subito che il presidente grondona avrebbe dato la panchina a lui infatti così è successo e nel novembre del 2008 c'è il debutto di diego armando maradona debutto in amichevole fissato in scozia a dumpden park nello stadio in cui lui ha segnato il suo primo gol con la nazionale argentina la storia chiamava a un appuntamento e ovviamente noi ci siamo andati è stata la mia prima trasferta importante da giornalista da telecronista per cui immaginatevi il tipo di tensione e di emozione tre giorni in scozia commentare una partita internazionale con la possibilità di incontrare maradona comunque non solo di commentarlo sul campo ma di assistere alla sua conferenza stampa di assistere al suo allenamento tra l'altro eri riuscito anche ad organizzare un paio di interviste piuttosto pesanti perché ho avuto la possibilità di fare una chiacchierata one to one come si dice in gergo ovvero in esclusiva con javier sanetti e con nicolas burdisso era una grande chiamata per me personalmente ma insomma l'emozione di poter andare a vedere da vicino maradona superava qualsiasi cosa arriviamo al centro d'allenamento dell'argentina la sede dell'allenamento dell'argentina che è il celtic park lo stadio bellissimo dei celtic di glasgow la partita si giocava a dampden park lo stadio della nazionale l'argentina invece faceva allenamento al celtic park ed era di base in un albergo del centro dove veniva tutta l'attività stampa ma la prima cosa che volevo fare era appunto andare all'allenamento dell'argentina un allenamento gioioso scherzoso con maradona che coinvolgeva i giocatori assisto faccio i miei reportage faccio i miei servizi e poi cosa succede poi c'è la possibilità di scendere vicino al campo io mi cifiondo e mi vedo venire incontro il 10 e diego diego armando maradona ve la racconto abbastanza breve la mia reazione è stata di allungare la mano e lui me l'ha stretta e mi ha fatto un sorriso il sorriso tipico del suo volto quando si sente celebrato si sente felice si sente in mezzo alla gente del calcio io lì non ho resistito alla tentazione gli ho messo le mani sulle spalle e gli ho detto gracias por tu football grazie per il tuo calcio lui mi ha ricambiato il sorriso mi ha dato un buffetto sulla guancia poi è andato avanti questo è stato il mio incontro con diego armando maradona non qualcosa di epocale però una sensazione mi è rimasta e mi rimarrà sempre ovvero una sorta di aura di luce che scontornava la figura calcistica di maradona mentre mi veniva incontro tra l'altro c'era anche un pallone di mezzo era in tenuta dall'allenamento la sensazione è di aver di fronte veramente un personaggio storico una divinità per quanto riguarda il calcio poi ci sono tutti i discorsi sulla vita e sono da considerare ma io mi occupo di calcio c'è gente molto più titolata di me per trattare di sociologia per trattare della vita delle persone e se vuole per giudicarla io non lo faccio io giudico il maradona calciatore è l'unica cosa veramente che mi è uscita che sono riuscito a dirgli è stata gracias por tu football grazie per il tuo calcio questo credo che glielo debba qualunque persona abbia anche per solo un secondo della propria vita giocato a calcio guardato il calcio ammirato il calcio ha avuto a che fare con qualcosa che riguarda il calcio a poi c'è stata anche la partita sì l'argentina di maradona ha vinto ha vinto 1 a 0 contro la scozia ha segnato subito maxi rodriguez un 1 2 andando in porta tra l'altro era un'argentina dove c'erano sia la vessi che kerman denis e per cui immaginatevi napoli quella sera con i suoi due attaccanti nella selezione e il suo dio a guidarli l'avventura di maradona sulla panchina dell'argentina non è durata tantissimo è durata fino lo ricorderete al mondiale del 2010 all'eliminazione con la germania ha diretto 25 partite non ne ha pareggiata neanche una ha avuto il 72 per cento di realizzazione dei punti la percentuale più alta della sua carriera che poi l'ha visto allenare da altre parti è finita così è finita in mezzo ai pianti è finita con la braccia leo messi che non ha ricevuto la corona dal re come ci si poteva aspettare è stata una storia senza il lieto fine ma questo conta poco conta l'esperienza conta veramente la sensazione che mi rimane di quella volta che ho incontrato il re che ho incontrato diego armando maradona grazie mille grazie mille